I nostri amici della scuderia Ferrari e dai loro tefossi, oggi vi vogliamo mandare un messaggio. Siete stati e siete tra i nostri più aggueriti rivali. Rispettiamo la vostra storia così come rispettiamo la nostra. Abbiamo apprezzato ogni battaglia con il team rossa. McLaren e Ferrari sono come due poli opposti che si attraggono. Siete i nostri avversari ma anche amici e abbiamo rispetto per la scuderia e i tifosi. Ed ora, in questo momento speciale dell'anno, vi vogliamo fare un regalo. Ce ne siamo per sicuro per due anni. Lo abbiamo acquitato e aiutato a crescere. Ora è il vostro turno. Abbiatene cura come abbiamo fatto noi. Arrivederci al prossimo anno sulle piste. Ciao, 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 arrivederci, buon Natale. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao.